Romina Power, appello via Instagram per i giornalisti L'ex di Albano Carrisi sbotta sui social e manda un appello tramite il suo profilo social Cancelletto Romina Power è sempre stata molto attiva sui social e spesso lo ha usato a fin di bene per condividere le sue emozioni con i follower Questa volta però ha utilizzato il suo profilo Instagram per mandare un messaggio ben preciso in difesa del suo ex marito e partner artistico, Cancelletto Albano Carrisi. In realtà la figlia di Tyrone Power avrebbe pubblicato ben due post Il primo sarebbe stato rimosso dopo poco tempo, perché aveva evidenziato dei toni un po' troppo bruschi. Il secondo invece tuttora visibile dice testuali parole, per favore diamo una tregua ad Albano e creiamo pace e serenità per tutti Parlo ai cuori dei giornalisti come se questa fosse la vostra famiglia e non fossimo solo dei personaggi da spennare Ve lo chiedo col cuore in mano, grazie! Quello di Romina è stato un vero e proprio atto d'amore nei confronti del suo ex marito, visto che in passato ha avuto problemi di salute Una vita più tranquilla e meno travagliata sarebbe meglio per il cantante di Cellino San Marco, ma va anche detto che è inevitabile non parlare degli ultimi fatti accaduti in merito alle vicende amorose di Albano Loredana Lecciso racconta la sua versione. Cancelletto Loredana Lecciso fino a ieri era l'attuale compagna di Albano Carrisi Nella puntata di Storie italiane andata in onda ieri mattina, però, da parte del cantante pugliese via collegamento telefonico è arrivata la parola e fine alla sua storia con la showgirl Salentina La Lecciso proprio in merito alla fine della storia con Albano ha deciso di spiegare la sua verità al settimanale Chi È vero, ha detto, che la storia tra me e Albano non è finita a causa di Romina, ma in passato mi ha ferita, evidentemente non se n'è accorto È difficile avere a che fare con un'ex moglie come la Power, ma sono stata la prima a volere una grande famiglia allargata. Con Romina sto lavorando ad avere un rapporto di rispetto e voglio ritrovare la stima del mio compagno Questo è il libro di vista da parte della Lecciso e inoltre avrebbe terminato la sua intervista, dichiarando, a dicembre sono andata via solo per un intervento e ho passato le festività natalizie con mio fratello a Pavia Un cerchio che sicuramente farà parlare ancora a lungo i protagonisti e di tanti giornalisti, ma questa volta è giunto il momento di voltare pagina e raccontare un possibile ritorno di fiamma tra Albano e Romina Power, la coppia che per anni ha fatto sognare i suoi fan con una storia da favola Un cerchio che per anni ha fatto sognare i suoi fanatici e di tanti giornalisti e di tanti giornalisti e di tanti giornalisti